buonasera allora la coppa america è cominciata con le prime due regate ma tenetevi a mente questi nomi questi quattro nomi giulia conti margherita porro maria giubilei e giulia fava sono le ragazze di luna rossa prada pirelli che hanno vinto la poich women america scappa una prima edizione di una coppa dedicata solo alle donne con gli ac 40 che le nostre ragazze come peraltro avevamo fatto già i giovani under 25 hanno letteralmente dominato qualche patema nell'ultima poppa ma era chiaro che la tranquillità delle nostre ragazze era tale che avrebbero vinto erano forse le favorite per noi erano le favorite è stata una bellissima vittoria commovente la gioia delle ragazze e gli abbracci i sorrisi ma quelli abbiamo imparato a conoscerli questa coppa delle ragazze è stata tra le due prime e due regate della coppa america e il punteggio a questo punto è attenzione 2 a 0 per emir team diciamo che gli inglesi di neos che ahimè ce l'hanno suonate hanno suonato a luna rossa prada pirelli non hanno brillato ma per analizzare tutto questo abbiamo questa sera ospite gianluca ciao ciao a tutti il quale peraltro ci parla da barcellona quindi se un po diciamo come topo nel formaggio che è stato veramente emozionante secondo me la regatta e le ragazze iniziamo penso dall'italia per per la vittoria per come l'hanno fatta per tutte per come hanno costruito con successo emozionante anche vedere il la loro la loro festa perché credo che se la siano meritata totalmente aveva tra l'altro lo stesso allenatore della squadra maschile e portano a casa luna rossa porta a casa comunque due successi secondo me che confermano qual è il valore del della vera italiana se ci portiamo indietro trent'anni fa non era assolutamente così quando una rossa è iniziata ricordiamo tra l'altro la collaborazione che c'è stata tra le ragazze che facevano un po diciamo lo short team dei ragazzi quando loro facevano le regate e viceversa i ragazzi non c'era solo diciamo l'allenatore in comune c'era una collaborazione infatti si vede che poi alla fine sono andati i ragazzi sono saliti sono saliti a bordo si sono saliti a bordo quindi hanno partecipato alla festa più di tutte le statistiche invece tornando alla coppa america tra virgolette vera e propria più di tutte le statistiche secondo me parla la faccia di benesli alla fine della regata quando si concede per le solite interviste di rito lui qualche regata nella carriera l'ha fatta e credo che abbia capito che sarà molto difficile lo ha detto pur con termini ovviamente ancora possibilisti però la sua faccia soprattutto dopo la prima la seconda regata che è stato dove Ineos ha spinto di più è riuscito a stare più vicino almeno nel primo lato nei primi due lati i primi quattro lati, le prime due bovine e le prime due porte diciamo che è passato avanti ha costretto Team New Zealand alla virata subito dopo la partenza quindi diciamo che ha fatto di più almeno e pare che non ci sia tre papergatti insomma è una situazione piuttosto complicata io credo che Team New Zealand avesse un bel vantaggio alla fine della scorsa coppa in termini di velocità e credo che un po' se lo sia portato dietro anche a Barcellona con questa nuova barca sicuramente se è vero che Ineos Britannia ha fatto enormi progressi ed è vero perché il risultato, la vittoria del Luton Cup lo dice se è vero che questa luna rossa era migliore di quella dell'altra volta di tre anni fa la crescita di Team New Zealand è epocale sì, io credo che loro non avessero forse mostrato tutto il vantaggio potevano avere un problema di regate e l'hanno eliminato partecipando ai primi due round robin però in termini di velocità credo che siano ancora la barca più veloce della flotta e difficilmente in Coppa America quando hai la barca più veloce perdi solo se adesso chiedo scusa agli amici di Luna Rossa Prada Pirelli solo se ti chiami Luna Rossa Prada Pirelli perdi anche se hai la barca più veloce però, a parte gli scherzi, secondo me c'è un particolare Luna Rossa ha perso con vento più forte di quello che c'era oggi oggi c'erano 10-11 nodi le regate in cui Luna Rossa ha sofferto, ha perso sono state regate con 17-18 nodi che sono condizioni in cui, un po' si sapeva, Ineos sarebbe stata molto veloce vediamo cosa succederà, domani per esempio credo che ci sia pochissimo vento potrebbero essere in dubbio le regate per cui o usano lunedì e martedì che sono giorni di recupero o si va poi a mercoledì per la quinta e la sesta regata che quindi potremmo essere alla vigilia e alla chiusura sarebbe un peccato, anche per lo spettacolo, che finisse 7-0 però, come hai detto tu giustamente Benesli aveva un'aria meno da sbruffone che un po' lo accompagna dopo queste due regate secondo me non si aspettava di prenderle così sonoramente Io credo che abbia capito che la differenza è ancora tanta e invertire la rotta è complicato metterli in difficoltà è complicato anche perché rispetto, se vogliamo guardare dal punto di vista dell'equipaggio oggi Team New Zealand ha due timonieri a Autryg che non aveva nel 2021 quindi non ha preso l'ultimo della pista parliamo di un altro campione olimpico quindi insomma c'è stato è chiaro che dopo le due regate di oggi secondo me un po' i rimpianti di Luna Rossa aumentano giusto quello che dicevi tu la sfortuna di Luna Rossa è stata sempre avere quegli inglesi regate con ventoforte che ha una condizione abbastanza strana per Barcellona diciamo atipica perlomeno in questo periodo e invece si è beccata tutta una settimana di quelle condizioni lì però questo insomma d'altronde è il vento che comanda lo sport della vela cioè io ricordo la finale di Witton del 2007 Luna Rossa contro Oracle? no la finale contro Tini e loro si aspettavano vento un po' più portante fu una settimana di vento bassissimo buonissimo e cioè a questi livelli quando c'è una differenza minima questo fa tanto invece incide tantissimo allora io come dire mi tengo la soddisfazione io ho fatto il commento per Sky sia dei giovani che delle ragazze e quindi come dire dal punto di vista del commentatore sono l'unico commentatore che ha vinto qualcosa di italiano nella Coppa America anche se erano diciamo manifestazioni collaterali e secondarie mi spiace per il mio compagno di viaggio Guido Meda però comunque ha trovato entusiasmo anche in queste regate le prime due regate di finale credo che sia veramente in gamba abbia un modo nuovo di comunicare la vela questa vela soprattutto che esce un po' dai canoni infatti diciamo ai più anziani storcono il naso ma invece ai giovani piace tanto ai giovani piace penso che anche Bertelli che non è un giovane però ha detto le cose secondo me molto sensate l'ho trovato meno diciamo apparentemente meno combattivo io credo che sappia bene dove sono gli errori in parte l'ha detto e comunque questi errori qui non incidono più nel senso che continuare a guardare indietro non ha nessun senso si potevano fare delle cose diverse non sono state fatte quindi questa esperienza dovrà essere usata per il futuro però ha detto le cose importanti e un'altra cosa è proprio questo di una nuova vela è chiaro che ci sono tante preoccupazioni perché se la Coppa America va a gedda come si dice in maniera insistente potrebbe essere un salto nel vuoto e non so se la Coppa America abbia la forza di sopportare un salto nel vuoto dopo 170 anni potrebbe essere fatale però queste sono le regole del gioco Team New Zealand difficilmente tornerà a casa Team New Zealand non ha uno sponsor vero e proprio che paga quindi deve cercare di Barcellona è andata bene anche oggi c'era molta gente però dicono che la città abbia preso poco è arrivata molta gente da fuori ma che la città si sia rivolta poco a queste perché poi è un evento che non sente è abbastanza normale prima del 92 il mare per Barcellona non esisteva quando ci furono le Olimpiadi il primo approccio fu proprio quello questo è vero e anche il fatto che da un certo punto di vista che la vela sia stata o sia comunque lo sport della re la rende meno popolare in realtà Valencia aveva avuto un bel risultato anche in termini turistici però avevano grazie alla Coppa America avevano trasformato tutta l'area dei docks a Barcellona hanno fatto molto perché tutti i soldi che avevano fatti a Team New Zealand non ne avevano più evidentemente per rinnovare il porto a Valencia fecero un lavoro intanto che durò due anni perché se ti ricordi ci furono i preparatori quindi fu e la città cambiò insieme alla Coppa cioè loro i cittadini valenziani che erano molto rivolti alla collina all'entroterra e non al mare scoprirono lì questa cosa la passeggiata al mare mentre prima non ci potevi andare perché era tutta una zona di droghe esatto eccetera eccetera dopo era diventata la passeggiata anche per i valenziani ma ci hanno messo due anni di lavori di cui il cambiamento è molto molto minore anche se c'era tantissima gente quanti tifosi neozelandesi più che i grittani tantissimi neozelandesi che mi sembrava di essere sul viaggio quasi in Oakland cioè veramente un sacco di gente giovani anziani un bel supporto bene Gianluca grazie di questa chiacchierata sicuramente diciamo ovviamente non abbiamo più un appuntamento quotidiano come quando c'era luna rossa ma questa Coppa America la commenteremo ancora e ci ritroveremo buona serata a presto ciao a tutti